Incontro a Montorio Alvomano con gli altri sindaci del cratere del 6 aprile 2009 per chiedere al governo di dare la possibilità di procedere ai cambi di destinazione d'uso per locali immobili situati in particolar modo nei centri storici. Ricordiamo che nel Terramano sono otto i comuni facenti parte e sono Montorio, Castelli, Arsita, Fano Adriano, Pietracamela, Tossicia, Colledare e Penna Sant'Andrea. I sindaci chiedono di intervenire a stretto giro sulla questione che potrebbe rappresentare un importante volano soprattutto dal punto di vista turistico per il rilancio dei caratteristici centri dei comuni montani. Sono state fatte a Montorio diverse riunioni con i presidenti di consorzio, i tecnici e chiaramente anche gli uffici preposti per il sisma 2009. Un argomento importantissimo è cosa all'interno delle case inagibili, quindi dei centri storici o delle case singole, come avere possibilità diverse, come cominciarsi a muovere pensando oltre. E dico per esempio ad un B&B, dico per esempio ad un albergo diffuso, dico per esempio turismo, economia, lavoro. E questa è un'opportunità che adesso purtroppo la normativa non prevede, io sto spingendo, la pratica già è al sottosegretario a Roma, quindi stanno considerando questo, però ho bisogno necessariamente dell'appoggio di tutti i sindaci e dobbiamo fare squadra perché le mie necessità, le necessità di Montorio sono le stesse degli altri sette comuni del sisma 2009. Una modifica importante perché permetterebbe soprattutto ai centri storici di rilanciare i paesi che comunque stanno soffrendo ancora dal 2009? Sì, allora si parte da una rivitalizzazione urgente ed è quella avendo un turismo diciamo itinerante perché non c'è ricettività, quindi non possiamo permetterci un turismo stabile. Ma partendo anche dall'idea che il turismo sta cambiando, ecco da lì si parte per dire un turismo itinerante va bene, per ora lo prenderemo giornaliero e dopodiché con quest'altra cosa, sperando che il sottosegretario ci dia la possibilità di poterlo fare, andremo ad un turismo stabile e duraturo. Intercettando un tipo di turismo, io lo vedo così, sempre medio alto.